Monsignor Bertolone, gli auguri di Natale a tutti i calabresi. Questa luce intensa, ininterrotta, che continua a illuminare il cuore degli uomini, di tutti coloro i quali si sanno chinare silenziosamente e meditare il grande mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. Sanno andare lì per sapere leggere il significato dell'incarnazione, il messaggio che Gesù ha voluto portarci, scuotendoci dal torpore, dall'indifferenza, dall'ignoranza e comprendere i suoi gesti, le sue parole, comprendere il suo amore soprattutto. E così facendo, forse, riusciremo ad essere più solidali con tutti, ad essere uomini e donne di pace, a comprendere di più i bisogni degli altri, di chi ci sta vicino, senza bisogno di cercare lontano le persone a cui possiamo offrire, come Gesù, un bel sorriso e tanta bontà. Costano poco, ma fanno tanto bene a chi ci sta vicino. È l'augurio più bello che posso fare di buon Natale e di buon anno a tutti.